Bene, queste unità didattiche saranno dedicate alla presentazione della sintassi e della semantica del prologue, come nelle prime unità didattiche, anzi nel primo modulo didattico abbiamo visto la sintassi e la semantica della logica del primo ordine. Adesso vedremo espressamente quella del prologue e cercheremo laddove possibile appunto di fare i collegamenti del caso. Innanzitutto parliamo della sintassi e quindi vediamo come sono rappresentati gli oggetti in prologue. Beh, gli oggetti in prologue sono rappresentati come delle strutture, qui è schematicamente rappresentata un po' tutta la sintassi con cui vengono rappresentati gli oggetti in prologue e abbiamo visto dalla logica del primo ordine che gli oggetti del dominio vengono rappresentati mediante termini e i termini ricorderete che sono o costanti o variabili o funzioni applicate a termini. Quindi, che cosa vediamo invece qui? Che gli oggetti, cioè ciò di cui tratta il prologue, possono essere, vediamo qui, o costanti o variabili, e questi due li chiamiamo oggetti semplici oppure strutture, ma le strutture altre non saranno che funzioni applicate a termini. Quindi, sostanzialmente, quello che possiamo fare, questo collegamento, cioè quello che qui vediamo essere chiamato in prologue oggetti, dati, sono i termini. I termini possono essere o costanti o variabili, cioè oggetti semplici, oppure funzioni, vedremo dopo, qui vengono denominate strutture, ma sostanzialmente sono simboli di funzione, funtori, vengono detti in prologue, applicati a oggetti semplici o strutture a se stesse. L'unica piccola differenza significativa, credo, è che in prologue le costanti possono essere considerate di due tipi, o costante numeriche o costante atomiche. Le costanti atomiche sono sostanzialmente gli atomi che abbiamo visto, cioè le costanti, le costanti vere e proprie di cui abbiamo parlato oggi del primo ordine. Poi ci sono particolari costanti che sono numeri, che possono essere di due tipi, numeri interi o numeri con la virgola. Perché questa distinzione? Perché poi il linguaggio ovviamente non è, il linguaggio prologue non è che è un semplice theory improver, è anche un linguaggio di programmazione, deve fare dei calcoli, quindi deve ragionare con aritmetica, deve implementare dei calcoli. E come spero di poter chiarire più avanti nel corso, il prologue incorpora al suo interno non solo il meccanismo SLD, cioè di rifutazione che abbiamo visto nei moduli didattici precedenti, ma incorpora anche il cosiddetto attachment procedural attachment, cioè attachment procedurale, cioè a volte ci sono degli atomi particolari, li vedremo presto, che degli atomi nel senso SLD, dei goal atomici, che invece che essere lanciati e andare quindi a tentare di unificare con la testa di una qualche clausola, così come farebbe la normale procedura di rifutazione, in realtà vengono lanciati dei programmi, delle funzioni, scritte in C sostanzialmente, che cercheranno, dove è possibile, di fare delle operazioni aritmetiche e andare a istanziare delle variabili, riportando poi il risultato delle operazioni aritmetiche. Cioè in pratica viene lanciato il goal con delle variabili, ma invece di quelle variabili unificare mediante l'unificazione con un qualche atomo, come abbiamo visto fino adesso, in realtà queste variabili saranno passate per riferimento a delle funzioni scritte in C, che ovviamente non si vedono nel prologo, che sono nascoste, che andranno sostanzialmente poi dopo a riempire di valori quelle variabili, e quelle variabili. Se poi dopo la procedura termina, sarà magari una procedura, una funzione booleana, termina per successo, allora sarà sostanzialmente restituito il valore true, e quindi la computazione sld andrà avanti e la variabile sarà istanziata a quel, passata per riferimento, sarà istanziata al valore che avrà preso da quella funzione. Se invece la funzione booleana avrà risultato false, quella variabile rimarrà non istanziata. Sostanzialmente quello che ho descritto in questo momento è l'attaccimento procedurale. Non c'entrava con l'argomento che abbiamo qui davanti, che è un argomento che riguarda la sintassi, però mi è servito, ovviamente ci torneremo, sarà sempre più chiaro in seguito, mi è servito per giustificare il perché il prologo distingue due tipi di costanti. Le costanti atomiche, che sono sostanzialmente le costanti che abbiamo studiato fino adesso, e le costanti numeriche che invece verranno trattate molto probabilmente dentro degli ato in maniera diversa da delle costanti normali. Spero che sarà tutto più chiaro nelle slide ad avvenire. Allora, partiamo quindi dal basso e cominciamo a considerare le costanti atomiche. Le costanti atomiche sostanzialmente possono essere rappresentate nel prologue come stringhe di caratteri ASCII o ISO 8859 o UTF8 a seconda di come è settato il sistema operativo e l'interprete del prologue di conseguenza, compreso anche l'underscore. L'importante è che per distinguerle dalle variabili, come vedremo, devono comunque iniziare con la lettera minuscola. Tutti quelli che stiamo vedendo qui nella slide sono possibili rappresentazioni di atomi in prologue. Anche questi sono atomi, però sono atomi che hanno un significato particolare in prologue. Di volta in volta, quando li incontreremo, non tutti li incontreremo, ma quelli che incontreremo in questo corso li menzionerò il significato speciale che hanno all'interno del prologue. Ancora, e da ultimo, possono essere atomi sequenze anche di caratteri compresi all'interno di una coppia di apici. A che cosa serve la coppia di apici? Serve o per considerare atomica una sequenza di caratteri asci, di caratteri che iniziano con la maiuscola, per esempio laddove dovessimo rappresentare dei nomi propri di persone, probabilmente lo faremo con la lettera maiuscola, allora in tal caso per non confondere la costante con una variabile sarà necessario mettere quella sequenza di caratteri all'interno di una coppia di apici. oppure se per esempio abbiamo il carattere spazio, ad esempio, che distinguerebbe due atomi diversi, vi sarebbe un separatore, bisognerebbe ovviamente metterlo all'interno di una coppia di apici. Quelli che abbiamo visto adesso sono sostanzialmente le rappresentazioni, cioè la sintassi delle costanti atomiche. Vediamo adesso le altre costanti, quelle numeriche. Come ho detto prima, automaticamente il prologue, a seconda di come abbiamo scritto la costante numerica, automaticamente ne associa uno di questi due tipi, perché il, ripeto, il linguaggio di prologue di per sé, o il linguaggio dichiarativo, non ha tipi di dato. Ma quando tratta delle costanti numeriche, che le tratta come abbiamo visto prima con l'attaccimento procedurale, deve passarle sicuramente a delle funzioni scritte in C, e quindi a questo punto le tipizza, queste costanti numeriche, in una di questi due modi. O saranno degli interi, quindi laddove non c'è il segno viene automaticamente preso il positivo, o saranno degli interi, o saranno dei numeri reali. Saranno i numeri, considerati i numeri reali, quelli che hanno il punto decimale, ovviamente, il floating point. Se all'interno di un'espressione ci fossero entrambi questi tipi di numeri, ovviamente l'intero sarebbe automaticamente convertito, dall'attaccimento procedurale che è scritto in C, sarebbe automaticamente convertito in real. Per quanto riguarda le variabili, abbiamo detto che le variabili sono, di nuovo, stringhe di letterali, che però iniziano con una lettera maiuscola. Questa è la convenzione che è stata utilizzata dal prolog, fin dal nascere, ancora adesso fa parte, è una distinzione che fa parte dello standard cosiddetto di Edimburgo, per quanto riguarda tutti i prolog, che dovrebbero accettare questa convenzione. Se una stringa di letterali inizia con una lettera maiuscola, allora quella rappresenta una variabile. Alternativamente potrebbe essere una variabile, una stringa che inizi con un underscore. L'underscore, se fa parte della stringa all'interno, non è il primo carattere, allora quella stringa rappresenterà un atomo. Se invece con un primo carattere c'è un underscore, allora rappresenta una variabile. In realtà queste variabili qui, cioè gli identificatori di variabili di questo tipo, sono quelli che usano il prolog per generare delle variabili automaticamente, per rinominare variabili, quando va a prendere variabili di una clausola, come sapete, come ricorderete, quando si va a calcolare un risolvente, se si prende una clausola di programma per calcolare il risolvente, ovviamente quella clausola è stata scritta avendo dentro un certo nome di letterale, di variabile, ma la variabile deve essere rinominata ovviamente, perché ricorderete, ne abbiamo già parlato di questo, e quindi il prolog utilizza questo meccanismo qui di nominare la variabile con l'underscore e un numero per generare automaticamente nuove variabili. Quindi normalmente questo è il modo in cui noi programmatori chiamiamo le variabili e questo è il modo in cui chiama le variabili il prolog. c'è una particolare nome di variabile che è l'underscore da solo che viene chiamata variabile anonima. Variabile anonima. E a cosa serve la variabile anonima? La variabile anonima è utile, anzi la dovrebbe usare il programmatore quando sta programmando, sta scrivendo delle clausole in cui la variabile in questione compare solo nella testa o solo nel corpo della variabile stessa. Perché, per esempio, guardiamo qui questo predicato che fa riferimento al primo esempio che abbiamo visto del mondo dei blocchi due unità di dati che fa. E qui abbiamo che sostanzialmente questo predicato ci dice che un blocco sarà visibile se questo blocco compare al primo argomento di un predicato sì indipendentemente dalle coordinate x ed y indipendentemente vuol dire che non ci interessa sapere dove si trova ci interessa solamente sapere se è visibile o meno questo blocco quindi se sta sulla testa della pila se sta in cima alla pila o no. Quindi, non essendo noi interessati alle variabili possiamo scrivere una clausola che non nomina queste variabili perché nominarle qui dargli un nome non servirebbe a niente tanto queste variabili non sarebbero mai stanziate all'interno di una procedura di rifutazione cioè perlomeno non sarebbero mai restituite se si lanciasse questo goal qui al programma quindi questa scrittura della clausola è sostanzialmente equivalente a questa che vedete qui sotto solo che è meglio scriverà così perché l'occhio del programmatore fa subito caso al fatto che queste variabili non verranno in qualche maniera coinvolte in successive istanziazioni e quindi va bene così e quindi sono sostanzialmente variabili che compaiono in un solo atomo in un solo letterale all'interno della clausola per quanto riguarda le strutture allora abbiamo detto che le strutture dati sostanzialmente sono di un unico tipo e in questo il prolog richiama direttamente la logica prima volta sono delle funzioni applicate a termine cioè le strutture sono termini e quindi un termine può essere o una variabile o un atomo e l'atomo può essere o una variabile o una costante e la costante può essere un atomo o una costante numerica oppure possono essere funzioni applicate a termini quindi il concetto è un concetto ricorsivo e quindi e quindi noi sostanzialmente basta che abbiamo un simbolo di funzione potremmo rappresentare in teoria se la memoria del calcolatore fosse sufficiente in infiniti infiniti termini infiniti oggetti diversi e quindi per esempio qui cosa abbiamo abbiamo ad esempio la necessità di rappresentare una data allora una data se fossimo ad esempio in un linguaggio procedurale la rappresenteremo molto probabilmente come una struttura a tre campi nella programmazione dichiarativa dobbiamo mappare sostanzialmente il linguaggio della logica e quindi si sceglie quest'altro modo che è anche un modo idempotente in qualche maniera e però più funzionale a quelle che sono i requisiti della logica stessa di concepire un simbolo di funzione che in prologue si chiama fontore in questo caso date che poi si applicherà a un certo numero di argomenti cioè sarà una funzione che ha una certa arità in questo caso la funzione date ha arità 3 e quindi si intende che deve prendere tre argomenti il cui appunto intendimento è che al primo argomento ci sia un numero del giorno al secondo argomento la specifica del mese al terzo argomento la specifica dell'anno questi sono gli argomenti della funzione questi qui a loro volta in teoria in generale non nel caso della data ma in generale potrebbero a loro volta essere delle funzioni qui nel caso della data si intende che saranno due costanti numeriche e una costante atomica una costante atomica vedete June qui è scritto ovviamente con il minuscolo con la G minuscolo perché altrimenti sarebbe una variabile potrebbe anche essere una variabile ovviamente ma non in questo caso perché potrebbe essere per esempio un mese scritto con la M grande in questo caso saremmo a identificare un oggetto che è il 17 di un qualche mese del 2006 questo invece è il 17 di giugno del 2006 perché la J di giugno è una J minuscola quindi sostanzialmente le strutture dati in prolog altro non sono che termini le strutture date altro non sono che termini della logica del primo ordine perché vanno a identificare degli oggetti del dominio quindi simboli di funzione i cosiddetti puntori chi li sceglie li sceglie chiaramente il programmatore il nome stesso di una funzione è un atomo e il puntore è caratterizzato dall'avere una certa arità chiaramente funzioni che hanno lo stesso nome quindi i puntori che hanno lo stesso nome con arità diverse è possibile averli però rappresenterebbero dei dei puntori diversi quindi adesso se vogliamo dare una rappresentazione grafica di questo concetto possiamo pensare a un termine come o ripeto una costante oppure una funzione applicata a termini in questo caso è una funzione simbolo di funzione del stesso nato applicata a termini quindi noi potremmo dare di un termine una rappresentazione come un albero e di fatto questo è quello che faremo nel senso che come vedremo anche oggetti molto complessi addirittura non credo che arriveremo a farlo in questo in questo corso però addirittura non so delle immagini o delle rappresentazioni tridimensionali di oggetti possono essere rappresentate in questa maniera come alberi come strutture e le strutture sono mappate su alberi quindi tutti gli oggetti strutturati in prolog possono essere visti come alberi tutti gli oggetti strutturati in prolog sono termini possono essere visti come alberi e non ci sono altri modi per costruire oggetti in prolog quindi in particolare quindi diciamo che il prolog non ha tipizzazione dei dati a parte quella sottile tipizzazione delle costanti numeriche a cui ho fatto cena all'inizio di questa unità didattica